Gente il giorno è arrivato, oggi è uscito Europa Universalis 4 E non ho mai giocato a un qualsiasi qualsiasi Europa Universalis, mai Però lo aspettavo, perché ho conosciuto i giochi strategici della Paradox Prima ne avevo sentito parlare molto, però ero sempre rimasto abbastanza scettico Comunque la musica è un po' troppo alta, la basso Tipo così Ambientiamo un po' la musica d'ambiente Ecco Li conoscevo, però non c'ho mai giocato Ho provato il mio primo gioco Paradox circa un anno fa Crusader's Kings 2 E mi hanno stupito, ho provato tanti Non ho mai provato nessuno Europa Universalis Ho provato Earth of Iron, Victoria E poi basta, credo Sì, Earth of Iron, Victoria e Crusader's Kings 2 E mi sono piaciuti tutti Sì, veramente tutti Però Senti questo Europa Universalis che arrivava, mi sono informato su quello precedente E mi sono reso conto che è una gran figata Ho giocato la Demon, me ne sono innamorato Ed è uscito oggi, l'ho comprato oggi, è uscito oggi E faccio una serie Solo che non so con quale nazione Perché Europa Universalis come in tutti i giochi Paradox Puoi fare qualsiasi nazione che ti danno In varie date ovviamente Puoi fare anche qualsiasi giorno di qualsiasi anno dal 11 novembre 444 fino al 21 settembre 1972 1792, scusate E la partita credo che finisca Ai primi dell'Ottocento Più o meno nell'epoca napoleoniche Quelle, non lo so Forse va anche un po' avanti Forse nella prima guerra mondiale Non mi ricordo Però non voglio sparare le troppe cazzate Forse Victoria va dall'epoca napoleonica Fino alla prima guerra mondiale Oddio, non mi ricordo E comunque Che nazione fare? E che epoca fare? Io Sinceramente Partirei Dal Dall'inizio Perché Ovviamente ci sono le epoche un po' più carine Tipo La guerra dei 30 anni Secondo me E Proprio la Il pezzone di torta Che c'è Nella partita Perché Una delle guerre più Secondo me E' anche abbastanza Carina Figa Secondo me Da giocare Soprattutto giocando con la Svezia Con il nostro Gustavino Adolfo Presenta anche in CV5 Quindi Non so Però Bisogna anche dire che gli ottomani Sono molto cazzuti Da giocare Dall'inizio Per fare la conquista mondiale Però bisogna anche Dire che Venezia Sa il fatto suo Il Portogallo Anche la Scozia Non lo so Svezia Tutti i paesi nordici Mi piacciono Ma come mi piacciono anche Tutte Questi Canati Io mi piacciono i canati Ma ce ne sono veramente tanti E Non si sa Guardate Non so che Cavolo fare Ci sono Tre Queste fazioni qui Mio Dio Io Sarò tentato Un casino A giocare con gli ottomani Con i Mangia kebab Però anche con I Come si chiamano Gli indiani E gli inca Eh Mi interessano La Polonia Eh Dell'est Non è proprio Poi ci sono anche I gruppi tecnologici Che sono tutte Delle bestemmiate Allucinanti dopo Durante la partita Quindi non so Eh Ma Io direi Puntiamo sugli ottomani E che se ne vadano tutti Al dia O gli ottomani sono fighi Hanno Conquistatori di Costantinopoli Eh Ok Gli ottomani Uh Sono Troppo gasato Gente Questa qua sarà una puntata piccola Di introduzione Oppure Non lo so Non so se la farò piccola o lunga Dipende Più che altro da me Europo Universalis Ci ho giocato la demo Guardato qualche video su Youtube Credo di averci capito Qualcosina Però non aspettatevi Delle provate da me E non aspettate E aspettatevi Molte cazzate E aspettatevi Molti quei momenti Lì che dico Adesso che cazzo Devo fare Come si commercia Così Perché il commercio Non ci ho capito Assolutamente nulla E anche la colonizzazione Però con gli ottomani La colonizzazione Voglio vederla Come riusciremo a fare Guardiamo un attimo La situazione di partenza Con gli ottomani Siamo in guerra Con l'Albania Ed è questa Non dovremmo avere Troppe Troppi problemi A Annetterla E guardiamo un attimo La situazione diplomatica Siamo in guerra Con questi E non siamo alleati Con nessuno Fammi controllare Un attimo Sì Durante la partita E ogni nazione E ogni nazione E ogni nazione È molto diversa Ciascuna Praticamente Tutte sono diverse E ognuna Ha un obiettivo Di lungo partita Per esempio Gli ottomani Hanno l'obiettivo Di Fammi controllare Vogliono conquistare Innanzitutto Costantinopoli La città del mondo E poi dopo Metti caso Dovremmo Aumentare L'influenza Sci Della Religiosa Della scia Però anche se Gli ottomani Sono uno stato Sempre state Una popolazione Abbastanza laica E oltretutto Magari Dovrebbe L'obiettivo È Riunificare Tutto Ricreare L'impero Della Arabia E oltretutto Anche diventare Un po' Occidentali Di Cultura E anche Unificare Tutta la loro popolazione Perché gli ottomani Diciamocelo Sono un popolo Di conquistatori E sono un gran popolo Di conquistatori Perché hanno fatto Il culo Veramente A mezzo Mezza Europa Più o meno E praticamente Il Nostro obiettivo Innanzitutto È conquistare Costantinopoli Prima Conquistare L'Albania Che siamo in guerra Che Oltretutto È reclamata Da un bel po' Di persone È reclamata Da Costantinopoli O noi Venezia E ovviamente L'Albania Venezia sarà Un grande problema Durante la nostra partita Comunque La maggior parte Del tempo Che passeremo Con gli ottomani Lo passeremo A Praticamente Conquistare E Sconfiggere Le rivolte interne Perché di rivolte Ce ne saranno Tante Guardando Guardando Un po' Io direi Che Mammelucchi Alleanza Non mi va Tanto Perché Mammelucchi Sono stati Anche Sempre Una nazione Contro Gli ottomani Direi Che Crimea La Crimea Potrebbe essere Un buon pezzo Di torta Da prendere Fin da subito E anche La Georgia Che così Abbiamo Diciamo Un'alleanza Attorno al Mar Nero E magari Con Lord Adoro Però Lord Adoro Forse potrà avere Un po' Di problemi Con Mosca E tutte quelle Quei principati Russi Quindi Direi Innanzitutto Di andare in diplomazia Con la Crimea E iniziare subito Perché secondo me È un buon alleato E ogni tanto Questo Questi qui No Ci vedono un po' male Voi Sono Questi qua Sono troppo lontani Non voglio entrare in alleanza Quindi Sì Crimea Un'alleanza Non gli va Possiamo fare qualche Matrimonio reale Sì Perché siamo Una monarchia Abbiamo la possibilità Di fare Matrimonio reale E ottenere La possibilità Di avere Un Un erede E oltretutto Possiamo anche Annetterla Pacificamente Senza alcun problema Con delle Casine di successione Quelli che capitano In Crusader's Kings Ecco Quindi Sì Matrimonio reale Abbiamo mandato il nostro Cosa E oltretutto Toglie Hanno accettato Il matrimonio reale E Possono fare Un'alleanza Adesso Sì Sono abbastanza contenti Per fare un'alleanza Noi abbiamo Un diplomatico Ancora Tripoli Potrebbe essere Non più quella Una Un buon pezzettino Di torta Però vediamo un attimo Vediamo un attimo Tripoli Con chi è alleata No Non è alleata Con nessuno Va bene Quindi Possiamo farci alleata Nel caso che In futuro Di sicuro La nostra prima parte Pensare espandersi Verso Serbia Bosnia Valacchia Moldavia E oltretutto Unificare Grecia E Turchia Quindi Tripoli Un'alleanza Ci sta Alla grande E anzitutto E oltretutto Dobbiamo anche Sì Albania Un attimo Ci sono stati Un po' di casini Ok Anzitutto Tizi Andiamo a invaderla Albania E questi tizi Qui li lasciamo qui La nostra flotta Che cosa ne facciamo Abbiamo una flotta Per pattugliare il commercio Perché il commercio Quanto ho capito È anche una Grande fetta Di Crusade Di Europa Universalis Come potete vedere Ci sono tante Zone commerciali La mappa è divisa Tra queste zone commerciali Tipo C'è quella di Londra C'è quella del Nord Quella di Bordeaux Quella di Genova Venezia Tunisia Alessandria È la nostra È la nostra Che in particolare Costantinopoli Dovete vedere che Qua sembra abbastanza Che Costantinopoli Abbia la maggior parte Del Del commercio Attraverso Questo nodo qui Però Però Diciamo Tutte le regioni Che fanno parte Di questo Nodo Cioè Tutte queste qua Che compaiono Prendono benefici Da questo Nodo qui E più regioni Possediamo Più benefici Abbiamo Ovviamente E quindi È un Comunque Un problema Qua Diciamo C'è il nodo E Diciamo Costantinopoli Comunque È un Buon Vantaggio Sì Loro Prendono Un Buon Pezzettino E noi Quanto Prendiamo Del commercio Uno Niente Male Quindi Direi Innanzitutto Di mandare A Costantinopoli La nostra Nave Per pattugliare La zona Perché Possono Sempre Capitare Pirati Oltretutto Così Aumentiamo Anche La nostra Potenza Di commercio E più Aumentiamo La potenza Di commercio Più I soldi Otteniamo Questo È un Gioco Incasinatissimo Quindi Gente Se non Ci capite Un Cazzo Normalissimo Pian piano Ci capiremo Assieme Neanche io Ci capisco Moltissimo Pochissimo Abbiamo un Generale Intanto Nine Possiamo Prendere Un Generale Ah no Comunque Intanto Andiamo Con ordine Siamo in Guerra Sì Ovvio E dobbiamo Prendere Un po' Di consiglieri Anche Se Costano Abbastanza Io direi Di un Consigliere Militare Per Direi Di Prendere Il Maestro Dei Reclutatori Jagob Gursu Credo Che Ci Dà La Possibilità Di Avere Risorse Umane Maggiore Queste Qua Sono Le Risorse Umane Cioè Manpower Perché Ovviamente Noi Abbiamo Degli Uomini Il nostro Esercito E Siccome Stanno Andando A Sediare Questa Zona Qui Andando Il 2 Dicembre Nel 3 Arriveremo Ci metteremo Un po' Quindi Blocchiamoli Questi 13 Dicembre Nel 14 Ma che Se 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 Vado Andiamo A saccheggiare L'Albania Anzi Direi Di Dividere A metà Le forze Una Mandarla Qui Per combattere Contro Sti Pezzi Di Merda E Altra Mandarla Contro L'Albania Poi Abbiamo Anche Un'altra Frutta Che Lo Utilizzerò Per Bloccare L'Albania In modo Che Non Potrò Utilizzare Le proprie Navi E Oltretutto Mi Stavo Già Perdendo Che Bello No Niente Non Mi Stavo Perdendo Ok Io Ho dovuto Spostare Queste Due Unità Perché Stavo Nella Stessa Regione Dell' Lepiro Oltretutto Dovremmo Anche Mandare Un Po' No 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 Regione Come Qualsiasi Gioco Che Si Rispetti Di Di Strategia Di Solito Quando Bisogna Controllare Le Nazioni C'è Sempre La Religione In Quelli Antichi E Gli Ottomani Hanno Un Bel Problema Perché Ovviamente La Turchia Che Era Una Loro Regione Diciamo Natale Cioè Anche Se Sono Di Origine Mongola I Turchi Diciamo Rimasti In Turchia Per Un Bel Po' E Quindi La Religione Araba Sunnita O Shiita Non Mi Ricordo Si Diffusa Il Problema Che Avendo Conquistato Tutte Queste Regioni Qui Da Costantinopoli Sono Ortodosse E Quindi Un Gran Problema E Possiamo Tentar Di Far Coesistere Due Popolazioni Assieme Però È Abbastanza Difficile E Se Le Riusciamo A Far Coesistere Siamo In Una Questione Abbastanza Di Filo Del Rasoio Che Possiamo Magari Vivere Se Ce La Facciamo Però In Futuro Potremo Avere Dei Problemi In Guerre O Con La Tassazione E Cetera E Cetera Quindi È Sempre Una Situazione Un Po In Bilico Attualmente Però Possiamo Anche Ovviamente Convertire Le zone E c'è Una Grande Possibilità Di Rivolte Di Tutte Queste Cose Qui E Sta Solo A Noi Decidere Cosa Fare Io Direi Di Attualmente Fino A quando Avremo Unificato La Grecia Conquistare Solo Conquistare Poi Dopo Magari Quando Avremo Un Esercito Un Po Più A Pro Questo Di Esercito Dovremmo Farci Un Esercito Oddio Facciamo Uno Qui Uno Qui Uno Qui E Oltretutto Un po' Di Cavalleria Una Qui E Una Qui Che la Cavalleria Per gli Ottomani Fa Abbastanza Bene Ecco Sì Abbiamo Speso Un po' Di Soldi Però Comunque Un Buon Esercito Non fa Mai Male Perché Costantinopoli È velo Il Tecnologico È Come Il Nostro Fatemi Controllare Livello Tecnologico Oddio Sì 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 Sono Come Il Nostro Ma Va bene Non Dovremmo Avere Troppi Problemi Anche Se Ha Delle Mura Veramente Forti E Anche Storicamente Anche Se Maometto Terzo Secondo Non mi Ricordo Tu eri Maometto Secondo Aveva Dalla sua Dei cannoni Veramente Dei cannoni Suami Oddio Erano potentissimi Per farvi intendere Hanno utilizzato Uno di questi cannoni Durante La guerra Per l'annessione Di Alessandria Da parte degli inglesi O tutta questa zona qui Gli ottomani Hanno avuto una guerra Con gli inglesi Io Non ricordo Di preciso Com'era andata Questa guerra Però mi ricordo Che erano Entrati in guerra E hanno tentato Di attaccare Costantinopoli E con un cannone Preso dall'epoca Della conquista Di Costantinopoli Hanno orientato In un solo colpo L'ammiraglia inglese E attualmente Questo cannone qui Esiste C'è E c'è Ah la Crimea Ci offre un'alleanza Molto buono E questo cannone qua Fu utilizzato Durante la guerra Per Dopo Si fu utilizzato Contro l'ammiraglia L'hanno distrutta E in seguito Fu regalato Da un sultano Alla regina Vittoria Lo potete trovare A Londra Nella torre Del Credo Del London Bridge Quello lì Quello famoso Ponte di Londra Credo Mi pare di averlo visto Non mi ricordo Ho una memoria Di merda Abbiamo vinto La battaglia Dell'epiro E ok Abbiamo preso Un po' di punti Di vittoria E la Crimea Alleata con noi Durante la guerra No Ok E comunque Stavo dicendo Comunque si Di Costantinopoli Sarà abbastanza Difficile Ehm Sì Il livello Del forte 3 Però Secondo me Se continuiamo A fare un assedio Non di conquista Ma un assedio Di durata Magari Ce la possiamo fare Possiamo anche farcela Tanto qui Stanno nascendo Le nostre unità Il primo reggimento Di Sofia Ehm Il secondo reggimento Di Irsmir Irsmir No Irsmir Bene Ehm Continuiamo Con il nostro Assedio Ehm Sono molto lunghi Gli assedi Praticamente Ogni Funzionano Possiamo fare due cose Praticamente O assaltare direttamente Oppure Attendere lì E aspettare Che muoiano di fame Io sono una persona Che piace morire Di fare fame Alle persone Oddio Detto così Sembra molto brutto Però mi piace Vedere le persone Soffrire Quelli che ho contro I me Quelli che ho contro I me Ovviamente Se sono in guerra Sì Però Ovviamente Non prendetela Come in realtà Mica mi guardo Vado lì Su internet A cercare I video di persone Che muoiono di fame Assolutamente no Però tipo Nei videogiochi Mi piace essere crudele E voglio farli morire Di fame Gli assedianti No Gli assediati Ecco Mica devo morire Io di fame E quindi Oh no Siamo in rosso Abbiamo reclutato Un po' troppe Un po' troppe unità Oh boh Pazienza Dai non importa È solo un investimento Abbiamo tanti soldi Quante che perdiamo Per turno 1,50 Boh Per mese È pochissimo Dai Non importa Oltretutto E comunque Non voglio fare Tutti questi assedi Di attacco Perché ho paura Che poi in futuro Posso perdere Degli uomini E la potenza Diciamo La Le risorse umane Sono molto vitali In Il Grupo Universalis E soprattutto Noi ottomani Che entreremo Continuamente In guerra Nelle fasi iniziali Non voglio perdere Tutti i miei uomini Per l'assedio Dell'Albania Perché diciamo C'è l'assedio Dell'Albania Tutto rispetto Agli albanesi Però Sai Come se dire Anch'io Se mi assediassero Torino I francesi Assediassero Torino Dico Vabbè Mica possiamo Passare lì Il tempo A stare lì A sprecare I nostri uomini Contro un nemico Così perché abbiamo Da pensare All'impero bizantino Che oltretutto Sta anche qua giù E Non ci avevo fatto Tanto caso Non ci avevo fatto Tanto caso Poi oltretutto Abbiamo anche Il problema Con i mammelucchi Che noi non siamo Tanti ben visti Dal D'altre nazioni Arabe Il motivo È perché Noi siamo Non abbiamo Una pietà Abbastanza Una pietà Come si può dire In italiano Pietà Non è che Una traduzione Proprio Buona Possiamo dire Pietà Mamma mia Dio ma Porca Forse In Crusader's Kings Lo dicevano C'era Prestigio E Piety Che sarebbe Pietà Forse Proprio Tra l'altro Pietà Non ne sono sicuro E comunque Siccome abbiamo Troppa pietà Praticamente Il nostro Bilanciamento Può andare In Pi Oppure Proprio Scettici Non siamo Religiosi Siamo Ate Oh no Fatemi finire Il discorso O siamo Cettici O siamo Ate Praticamente Se siamo Ate Abbiamo Costo De Tecnologie Minore Però saremo Che tasse Saranno Maggiori La forza Delle nostre Persone Sarà Avremo Più Risorso Umani E se Siamo Pi Siamo Più Difensivi Abbiamo Il morale Molto Più Aumentato E Missionari Saranno Molto 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 Più Ah Capito E comunque Dipende Come vogliamo Solo che Se noi siamo Meno Meno Religiosi Le altre nazioni Ci vedranno meglio Quelle non della nostra religione Però quelli della nostra religione Inizieranno a odiarci E viceversa Se noi siamo Troppo religiosi Quelli delle altre Religioni Ci vedranno E quelli della nostra religione Ci ammeranno E Solo una questione Di come vogliamo giocare Intanto C'è una Peste La peste Un'epidemia Possiamo Fare due cose Pagare Oppure Entrare in una crisi Io direi di pagare Perché io sono Un re magnanimo Un sultano magnanimo Dovevo abituarmi L'idea di essere un sultano E' fighissimo Secondo me Essere sultano Non capite Comunque Ci possono essere Delle rivolte In Bulgaria Qui Quindi per ridurre Le rivolte Ci si fa solo Una cosa Si mettono Le unità Nelle regioni In cui ci sono Le possibili rivolte Non è troppo difficile Si può Aggiustare Tutto qua Intanto Comunque Non vi ho Primaverò Dimenticato di spiegare Gli assedi Come funzionano Possiamo saltare O meno Dipende Se non Ne assaltiamo Dobbiamo aspettare E ci saranno Delle fasi D'assedio In ogni fase D'assedio Praticamente Aumenta la possibilità Che gli assedianti Si ritirino Come vedete qua C'è una percentuale Se notavate prima La percentuale Era negativa Cioè Era impossibile Che si arrendessero Adesso C'è una possibilità Ogni fase C'è una possibilità Che si arrendono Fino ad arrivare Al 100% Che si arrendono Da un ble Come potete vedere Qua c'è un'immaginina Di tutto il forte Dell'Albania Di Come si chiama Già la capitale Dell'Albania Oddio Non mi ricordo Sono ignorante Di Geografia Oh no Oh oh Parli del diavolo Spuntano le corna Si sono arresi Bene Quindi Adesso Possiamo fare Prendere O comunque Il caso sbelli Era prendere L'Albania Perché era la nostra Regione Reclamata E Non è come Crusader's Kings 2 Qui In Praticamente Tattattà In Trattati di pace Perché in Crusader's Kings 2 Dichiari guerra E poi alla fine Ci sono tre possibilità O vinci Pace bianca O ti arrendi E alla fine Sono tutti Un po' Alla base Qui dobbiamo Studiarcela Come vincere Tipo Possiamo chiedere L'annessione totale E La farò Ovviamente L'annessione totale Oppure Possiamo chiedere Di Cessare Tutti i trattati Che hanno con Atene e Ragusa Oppure Possiamo Chiedere Di essere Vassali ottomani Concederli Dire Va bene Avete perso Basta Loro perdono Prestigio Noi prendiamo Più prestigio Oppure Possiamo chiedere Sentite Prendete Dateci Parte del vostro commercio Per i prossimi Cinque anni Tutte queste cose Qui ovviamente Diciamocelo Servono Solo Per Alla fine In guerre Che si vogliono finire Prima Oppure delle guerre Che non Vogliono L'annessione Tipo io posso Dichiarare guerra All'Ungheria Oppure a Venezia Anche Però non voglio Venezia Però voglio Tipo Far sì che loro Siano i miei Vassali Oppure Avere delle Piccole regioni Fargli un po' di danno Non voglio Questarli Però voglio comunque Prendere un po' di cose Da loro Ovviamente Qua siamo in una guerra Di conquista E quindi Siccome Possiamo Io faccio Annessione totale Se noi non fossimo Stati in una guerra Di reconquista Perché in teoria È una guerra di reconquista Anche se Noi È la prima volta Che conquistiamo Queste regioni Per quanto mi riguarda A meno che gli albanesi Siano Ribellati Se Per esempio Se noi Fossimo andati In Non lo so Di sicuro a Venezia Non abbiamo un Non è una nostra Regione Base Cioè Non è che Riclamiamo come ottomani Venezia Perché è nostro Il diritto Se noi Chiedessimo Venezia Che non è Il nostro Il diritto Potremmo Prendere Una penalità Di aggressione E di over espansione Cosa sarebbe Di aggressione Tutti i nostri vicini Ci inizieranno Un po' Temere E può darsi Che faranno Qualcosa contro di noi Invece Invece di Sovra espansione È un Guaio interno Che Noi non riusciamo A gestire Tutte queste Territori Che Non sono mai Stati nostri La popolazione Si può ribellare E dobbiamo fare Dei core Che costano Punti Amministrativi E ne parleremo Dopo Siccome Noi siamo In una guerra Di reconquista Non abbiamo Tutte queste Penalità E quindi Mandiamo Ovviamente Tutto E hanno Accettato La nostra Generosissima Offerta Di pace Ora Siamo Possiamo Dichiarare Guerra Forse Anche All'impero Bizantino Dichiarare Guerra Anzi Non abbiamo La possibilità Di dichiarare Guerra Possiamo anche Scegliere Di non avere Un caso Sbelli Sono Alleati Con la Serbia Però Mi pare Che possiamo Prendere Un caso Sbelli Se noi Aspetta Se noi Prendiamo Questo Come Prendere La missione Di Conquistare Costantinopoli Perché Alla fine Si suddividono In due cose Queste cose Qui Queste Sono Le missioni Queste Sono Le decisioni Le missioni Sono Dei Obiettivi Che ci Stabiliamo Le decisioni Sono Delle cose Che possiamo Scegliere Così D'amblè Che Possono Fare Delle Certe Caratteristiche Ovviamente Abbiamo Possibilità Di Fare Due Decisioni Una Da adottare Il sistema De Ushimr Che ci da Cosa ci da Ci da Ci toglie Anzitutto Potere militare Ci da Più Forza Di Persone Cioè Più Manpower Però Abbiamo Più Possibilità Di C'è Un Rischio Ci sono Meno Rivolte E Prendiamo Più Pietà Ah Strano E Lo faccio Ho forse Aumentato Il rischio Di rivolte No L'ho Diminuto E Comunque M Sto Come Come Cosa Conquistare Costantinopoli Però Gente Per questa puntata È tutto Votate Commentate La Mia serie Su Ovviamente Civilization Continuerà Continuerà Anche Questa Con Gli Ottomani Per la Gloria Del Kebab Vinceremo